Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano ci sono aggiornamenti sull'omicidio avvenuto a Palermo. Un'anziana donna che ha strangolato la figlia e poi si è autodenunciata. Ebbene la donna, interrogata per ore, ha confermato di aver ucciso la figlia. Dopo aver commesso il delitto ha chiamato il numero di emergenza autodenunciandosi e davanti agli agenti della squadra mobile, che l'hanno interrogata per ore, l'anziana madre ha confessato di essere stata lei a strangolare la figlia 44enne e di averlo fatto con una corda. In effetti, attorno al collo della vittima ci sarebbero dei segni. La donna, dunque, 74 anni, ha confermato in lacrime quanto già dichiarato nelle ore precedenti. Il fatto è avvenuto in via del Visone, alla periferia est di Palermo. Dietro al delitto ci sarebbero problemi familiari. L'anziana, infatti, avrebbe raccontato alla polizia che la figlia soffriva di depressione. Sarebbe stato questo, dunque, a spingere la donna a compiere il gesto. Le indagini, comunque, sono ancora in corso. Indagini dei carabinieri del Ross sulla guerra di mafia avvenuta negli anni 90 nel Messinese. Sette persone sono state arrestate. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del Ross, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Messina e del dodicesimo nucleo elicotteri di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP nei confronti di sette persone indagate per diversi omicidi aggravati dal metodo mafioso, fatti per agevolare le attività dell'Associazione Mafiosa del Clan dei Barcellonesi, che gestiva gli affari criminali a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica della provincia di Messina. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate nel gennaio 2023 dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale su delega della DDA, in merito a dieci episodi tra omicidi, lupare bianche, intimidazioni e tentativi di omicidio. Secondo le indagini, gli indagati, alcuni dei quali già condannati con sentenza definitiva per essere capi e promotori del clan mafioso dei barcellonesi, avrebbero preso parte, in qualità di mandanti o esecutori materiali, a omicidi nell'ambito della guerra di mafia degli anni 90 in provincia di Messina. Torniamo a Palermo, dove un ladro è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo si era infatti introdotto negli uffici del comune. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. I militari dell'arma, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati contattati dalla centrale operativa, poiché un cittadino aveva chiamato il numero unico di emergenza segnalando l'intrusione di una persona all'interno degli uffici dello Stato civile del comune di Palermo. L'uomo, dopo aver danneggiato una serranda e infranto una finestra posta al piano terra, si è introdotto al suo interno, rovistando e asportando vari oggetti rinvenuti nelle scrivanie. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato il ladro, il quale avrebbe tentato in vano di nascondersi sotto una scrivania. Lo stesso soggetto, nella stessa giornata, era stato identificato e denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato, poiché, dopo aver rotto il vetro di un SUV, aveva asportato dal suo abitacolo diversi pacchi di sigari. Il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l'arresto della 37enne. E' scattato il DACUR per sette indagati, sono stati i protagonisti di una violenta rissa avvenuta a Gela. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Il questore di Caltanissetta, al fine di garantire il mantenimento dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di cinque maggiorenni e due minorenni gelesi. I predetti, lo scorso 3 dicembre, si resero autori di una violenta rissa nei pressi di un bar nel quartiere Capo Soprano, nel quale si raduna la movida gelese. Per tali fatti, il commissariato di pubblica sicurezza ha denunciato i responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Con il provvedimento amministrativo adottato dal questore, i sette indagati, cinque dei quali gravati da pregiudizi di polizia, non potranno accedere o stazionare per un periodo di due anni nei pubblici esercizi della zona frequentata da molti giovani, anche minori. La violazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10 a 24 mila euro. Un posteggiatore abusivo a Catania aveva più volte violato proprio il provvedimento del DACUR. Per questo, nei suoi confronti, è scattata adesso la condanna da parte del Tribunale Etneo. Un posteggiatore abusivo, destinatario nel luglio del 2020 del divieto di accesso in alcune aree del centro urbano, il cosiddetto DACUR, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di otto mesi di arresto oltre al pagamento delle spese processuali. Con il provvedimento di prevenzione emesso dal questore, all'uomo era stato vietato di accedere nelle aree comprese tra Piazza Manganelli, Via Coppola e Via di San Giuliano, nonché di esercitare l'attività di parcheggiatore in quanto privo di autorizzazione. Incurante del dispositivo, il soggetto è stato ripetutamente sanzionato dalle forze di polizia, violando per sei volte, nel solo mese di gennaio del 2021, la misura irrogatagli. Per tali motivazioni, il giudice lo ha condannato alla sopracitata pena. Ci spostiamo adesso a Giardini Naxos. È stato forzato il cancello d'ingresso del Consorzio Rete Fognante. Su questa vicenda stanno ora indagando le forze dell'ordine. Sentiamo intanto le parole del Presidente del Consorzio, Alfredo Elia Mandri, intervistato da Mauro Romano. Il Presidente del Consorzio della Rete Fognante, Alfredo Elia Mandri, è successo un episodio inquietante all'ingresso del complesso di Pietre Nere. Cosa è accaduto, Presidente? Ma io definirlo inquietante mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che abbiamo trovato questa sorpresa, venerdì scorso avevamo completato l'installazione del nuovo ingresso automatizzato all'interno dell'impianto sud. Il lunedì mattina i nostri operai, una volta raggiunto il posto di lavoro, si sono resi conto che era stato forzato. Ripeto, in questo momento lo relovo più a una ragazzata. Vedremo nel tempo, io esporto denuncia, quindi vedremo nei giorni a venire se riusciremo a capire meglio cosa è successo e eventualmente comportarci conseguentemente. Questo non ha inciso sull'attività del consorzio sicuramente? No, 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 assolutamente. Quello era semplicemente un accorgimento perché noi abbiamo trovato, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato un impianto purtroppo carente anche di queste elementari strutture. Il cancello d'ingresso era completamente non funzionante e quindi con una catenella bisognava aprirlo e chiuderlo manualmente. Il guasto sarà ripristinato? Sì, sì, assolutamente, già ci siamo attivati. L'impresa entro, credo, questo fine settimana sarà in grado di ripristinare totalmente il guasto. Torniamo a parlare invece dell'ospedale San Vincenzo di Taormina che, lo sapete, registra diverse problematiche. Allora Mauro Romano ha intervistato il consigliere comunale Maria Rita Sabato la quale chiede interventi ovviamente necessari per cercare di salvare i reparti dell'ospedale taorminese. Il consigliere comunale Maria Rita Sabato vuole intervenire sul problema dell'ospedale San Vincenzo. Ecco, che cosa chiede alla politica il rappresentante del civico consesso da taorminese? Io faccio una piccola premessa dicendo che ho sempre creduto e sostenuto che la società va avanti e vive bene qualitativamente nella vita solo se ci sono due pilastri importanti che funzionano e sono le scuole dove appunto si forma l'uomo, l'umanità e la sanità dove la qualità della vita, la salute per l'appunto delle persone viene garantita. E allora noi siamo a Taormina, il paese per quanto mi riguarda più bello del mondo e abbiamo un problema grossissimo che è l'ospedale di Taormina che non è solo il centro cardiopediatrico per i bimbi che vogliono toglierci e per il quale ci stiamo battendo, ma è l'ospedale Tutto con tutte le sue specialistiche. Mi dispiace tanto purtroppo constatare che oltre i politici che hanno il potere di agire io sono un consigliere comunale ma sono di opposizione per cui non ho molto potere però chi ha il potere di poter battere i pugni che lo faccia e lo deve fare per una causa giusta come quella dell'ospedale come si fa Taormina, come si presenta al mondo intero quando a un pronto soccorso noi cittadini che ci abitiamo stiamo sei ore, sette ore, nove ore e non è certo colpa dei medici ai quali va il mio grazie per quello che fanno medici e paramedici ma è solo perché purtroppo le cose non vanno bene e allora perché deve andare bene una cosa della quale ne possiamo fare a meno? Mi dispiace che tutti i cittadini non siamo qualizzati a chiedere questo alle forze politiche che hanno il potere di cambiare questa realtà perché amiamo tutti andare ad ammirare le luci di Natale ammireremo la festa di Carnevale a mio avviso non è questo che interessa alla cittadina al comprensorio interessa che ci sia un ospedale funzionante in tutte le sue specialistiche questo è il mio pensiero Dalla regione siciliana risorse importanti per il settore agricolo e i lavoratori dei consorsi di bonifica vediamo tutti i dettagli nel servizio Sostegni economici a viticoltori e agricoltori e risorse per i lavoratori dei consorsi di bonifica disco verde all'Assemblea regionale siciliana alle norme a sostegno del comparto agricolo inserite dal governo nella legge di stabilità regionale 25 milioni in due anni di aiuti diretti in favore dei viticoltori per i danni causati dalla peronospora e 7 milioni di euro per sostenere il comparto agrumicolo via libera anche a risorse per 6 milioni di euro destinate ai consorsi di bonifica per consentire il rafforzamento dell'organico per i servizi rigui e di manutenzione del territorio mediante il turnover e l'incremento delle giornate lavorative 500 mila euro in più nelle casse dell'Irvo unico ente pubblico certificatore d'Italia che amplia la sua gamma di azione alla promozione alla ricerca e alla certificazione di qualità a tutte le produzioni agroalimentari siciliane disco verde anche alla norma che consentirà all'ESA di realizzare anche in convenzione con comuni ex province o altri enti interventi sulla viabilità rurale e intercomunale Il governo Schifani, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Luca Sanmartino, porta a casa un risultato importante approvando la finanziaria nei tempi previsti dalla normativa una legge di stabilità che libera risorse fondamentali per il comparto vitivinicolo e agroalimentare per il recupero dei borghi marinari per gli interventi di manutenzione sulle strade rurali per le iniziative di promozione nazionale e internazionale delle nostre eccellenze enogastronomiche e per la tutela della dignità dei lavoratori dei consorsi di bonifica e del comparto della forestazione che da troppi anni attendevano un segnale dalla regione L'aumento delle giornate lavorative, ha affermato l'assessore è un primo passo propedeutico alle riforme sia dei consorsi di bonifica che del settore forestale che mirano a dare stabilità agli operatori a concluso San Martino E a proposito di settore agricolo la regione siciliana comprerà 7 milioni e mezzo di euro di arance vediamo perché La regione siciliana comprerà 7 milioni e mezzo di euro di arance per aiutare i produttori locali che quest'anno, per via delle alte temperature estive hanno avuto una resa scarsa dei frutti in gran parte maturati in piccole dimensioni e una delle misure contenute nella legge stralcio alla finanziaria approvata dall'Assemblea regionale Le arance saranno poi conferite alle industrie di trasformazione per la produzione di succhi Il budget coprirà anche le spese di conferimento e trasformazione Con decreto dell'assessore dell'agricoltura entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno disciplinate le modalità di attuazione della norma Nella legge non è previsto un prezzo di acquisto delle arance che sarà dunque stabilito per via amministrativa Ipotizzando una spesa di 50 centesimi al chilo la regione acquisirebbe circa 15 mila tonnellate di arance pari a oltre 2 milioni di cassette E' tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia E' tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia